L'ultimo brano abbiamo incominciato con un brano degli anni 40, finiamo con un brano degli anni 30. Chi ha studiato, diciamo così, la storia della Romagna e dei suoi figli più o meno illustri sa che l'uomo della Providenza, che è nato qui vicino, ha studiato Faiz nel 1892-1893. Ne ha fatto di tutti i colori, nel collegio dei Salesiani è stato messo in posizione e aveva rimasto un solo amico al cui offrì, negli anni 20, un posto da inserviente nelle terme vicino a Pezza di San Cristoforo e quest'uomo è rimasto sempre fedele all'uomo della Providenza ma non tanto come uomo politico, bensì come amico di infanzia. Ho fatto questa canzone con la quale noi vi salutiamo e vi ringraziamo di averci ascoltato intitolato Bingo e Lomman in Bianca. Paolo, Cinco, Matteo, Enrico, Alberto e Claudio e con questo vi salutano, eh! Grazie! 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 Luce di flore dell'occhio della guida Osscia! Ova! Eppure notte me Sarmei a quel burlè Com'è c'è vento solda che la lampana In tecurti che i salegiani Gli sa me si incominciò E prego scadandele Senta ma niente Es vola stiempi ae Lo scone de gussea bexena Un cuerno E buscuno E pura branca E pianto ne pati E chacarыт la vaca E cabla veron In tu barca Que guale a leta In togli I usevo Has pens de puder Demetre e d'acù Vencla polena Asciutami, anche che da io, su mia manchie le venga la cucina Grazie, ciao! Grazie!